Allora, in prima una partita abbiamo lo stalker che continua a girare come un pazzo dal senato e è una persona invitata che costa più avanti in questo momento ma ne ho mai curato ieri perché altrimenti devono bere E' la tua diretta? E' la tua diretta? Va bene, allora Prince, perché Prince? As il principe di Belè Allora, amici, noi ci siamo sempre confrontati e ci siamo sempre detti le cose come stanno Come va a balli questo? Allora, metteteci una canzone subito al volo Una canzone d'amore subito al volo Cosa hai fatto? Ma qua mi chiedono chi ha vinto Allora, mi vogliono una canzone Ti va bene questa? Albano e Romina Ah, è proprio una canzone d'amore questa Ah, basso, basso, basso La presenza d'amore con Matteo Albano e Romina, felicità Vai Vogliamo che cantate felicità Mangiare un bainino Una canzone di basso, bella lega Vai, stefano, vai Vai, volevo a canzone Vai, volevo a canzone Staccatando Alberto. Staccati per favore, Alberto, vai a me. Questo è Alberto dopo tre dire medie. Ehi, la 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 la, fammi vedere. Ehi, la 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 la, fammi vedere. Ehi, la 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 la, fammi vedere. Ehi, la 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 la, fammi vedere. Grazie solo con il sorrimento lento Tu non sai nemmeno gli anni Ma è tutto bene quello che ci vedete Perché tu vai vai veloce come il vento Tu non hai pensato di oggi che non sono il tuo voto Ehi non sono il tuo voto Non stai nemmeno il tuo voto Ehi non sono il tuo voto Non stai nemmeno il tuo voto Non stai nemmeno il tuo voto Fami vedere Nananana Non stai nemmeno il tuo voto Scusate ...che stai nemmeno tutta volvera Gialli con... Una storia tra le dita Gianluigi Rignani Allora ragazzi un attimo sono scuso che ho detto Allora, adesso abbiamo i gialli contro i blu. Se i gialli vincono o pareggiano, io so, vincono il torneo. Nel periodo in cui i blu vincessero, vincono loro il torneo. Perciò basta solamente un pareggio per i gialli per vincere. Quindi, da Viareggio, a Volvera, vediamo cosa sono tante di fare. Diamo inizio all'ultima, siamo alla finale, ragazzi. Vado a uscire Danilo, che perdono. Danilo, vedi qua, vedi a cantare, non giocate. Vedi a cantare. Pareggio, famigli, ricordi. Va bene. Pareggio, ricordi. Fatemi dire se no al sindaco. Non valutiamo. Ragazzi, scusate, chi sta lì è l'eretti? Perché non li accomodate sugli spazi, così magari riusciremo a fare meglio la partita. Per voi, per un po' di tipo, dai. Ragazzi, per sicurezza la chiudo qua alla diretta, perché il telefono mi dice che si sta scaricando. Io lo sento già caldo, e per evitare che si cancelli anche questa diretta, in modo che si salvi e rimanga per voi, la chiudo qua e ci sentiamo più tardi. A dopo, ciao ciao!